Nella giornata mondiale dell'autismo, al Policlinico dell'Università Federico II di Napoli, sono stati illustrati i risultati di una ricerca genetica compiuta su un campione di famiglie con disordine dello spettro autistico, portata avanti grazie a una collaborazione tra le aziende ospedaliere della Federico II, dell'Università della Campania Luigi Vambitelli, dal TGEM e dalla Onlus Autism Aid. Una ricerca, spiega Carmela Bravaccio, del Dipartimento di Scienze e traslazionali della Federico II, motivata dall'assenza di conoscenza da parte della comunità scientifica delle cause che scatenano le malattie che rientrano nello spettro dell'autismo. Questa ricerca parte sul fatto che attualmente non si conoscono ancora le cause dei disturbi dello spettro autistico. Si parla di stime di incidenza di 1 ogni 77 bambini affetti da questo tipo di disturbo. Se si va sui principali motori di ricerca si vede che ci sono circa 15.000 lavori che cercano di individuare le cause ma da oggi non esiste ancora una causa. Lo studio, grazie anche a strumentazioni non esistenti in passato, si è svolto attraverso esami di approfondimento sul DNA di 17 pazienti di neuropsichiatria infantile della Federico II. Giancarlo Parenti, professore di pediatria presso il Dipartimento di Scienze Mediche traslazionali e ricercatore al TGEM e coordinatore della ricerca, illustra i risultati ottenuti. Cercare di identificare le possibili cause genetiche, quando è possibile identificarle, e selezionare pazienti che un domani potrebbero essere candidabili a nuove terapie. Ovviamente il nostro augurio è quello di che si sviluppino nuove terapie per questi pazienti e sapere qual è la causa ci aiuta innanzitutto a capire quali sono i meccanismi che portano, sia pure terogene, che portano all'autismo e poter individuare pazienti che un domani potrebbero beneficiare di qualche nuova terapia.